Il ricordo più bello e più intenso che si porta assolutamente Come si è impegnato una nuova avventura sull'arco? Beh, diciamo una cosa forte, sicuramente, l'intervento, la visione, il senso di un incidente che ci ha impegnato tantissimo, ci ha impegnato molte risorse e anche ha dimostrato, anche a me, la grande professionalità che mi rivolgo anche qua però questo è stato solo il punto dell'AIDS poi ce ne sono stati tanti altri e tante cose interessanti lei è di preciso del qual è arrivato e lei è impegnato C'è un'altra? C'è un'altra? un po' poco un po' più un po' più un po' più decidi dunque con il nuovo comandante lei rinnova quella che è un po' la tradizione dello scambio di personaggi come comandanti pisani che vengono a Livorno pisani come anche di nascita che è stato il comandante ceccherini che ci è stato tantissimo a Livorno prima di avere altri incarichi a Torino e poi signor Vallo-Rivorca a Firenze ecco lei rinnova questa tradizione di un comandante che viene da Pisa a Livorno oppure anche i rigornesi che hanno comandato Pisa e poi sono venuti anche a Livorno esatto un riferimento non è la casa appunto rinnova questa tradizione quindi è quasi un derby pacifico tra le due città sì sì non tanto che sia pacifico il derby poi dopo va bene sì evidentemente c'è uno scambio oramai un po' consolidato tra le due città e sicuramente hanno problematiche diverse Giorgualizza citava prima l'intervento dell'Isola d'Elba e non potrei citare quello del Montesera che ha una problematica veramente molto diversa in cui l'occasione era una cosa più complicata come trovare una porzione del centro della frazione di calci di Montemagno in poche ore perché era la cosa più urgente della famiglia quindi probabilmente serve un po' come dire mescolare il mare con la montagna avere le esperienze di entrambe le cose e qui essendoci tanta costa un luogo su un mostatore un luogo che è uguale quello di un helicotter certamente la possibilità di fare anche su quelle esperienze sarà questo per noi sicuramente per noi grazie Grazie a tutti.